530.000 terze dosi con oltre il 70% di somministrazioni dove emerge che il 95% di ultraottantenni è stato vaccinato. Per la fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni sono state somministrate 13.000 prime dosi su 23.000 iscritti in piattaforma mentre per la fascia d'età tra i 12 e i 18 anni risulta vaccinato il 70% degli iscritti. E questo è il quadro generale della copertura vaccinale anti-covid nella provincia di Salerno nella settimana in cui si dà un'ulteriore spinta alla campagna vaccinale con l'apertura per questo weekend di diversi istituti superiori. Dopo il liceo severi di Salerno nuove tappe direttamente nelle scuole per gli adolescenti della fascia d'età tra i 12 e i 18 anni cui saranno destinati i nuovi vaccini Pfizer già priempiti in siringa da iniettare. Ad annunciarlo ai nostri microfoni il dirigente dell'asola di Salerno per il settore covid il dottor Arcangelo Sagesetozzi che nel corso di un'intervista esprime fiducia per la buona copertura vaccinale che dovrebbe contribuire nei prossimi giorni ad abbassare i numeri dei contagi fermo restando il rispetto delle regole per contribuire a rallentare la circolazione. Sì noi per recuperare ma più che per recuperare per garantire una buona funzionalità del modello educativo del modello scolastico stiamo avviando anche con il supporto e sulla spinta delle richieste che ci viene dalle scuole stesse un'azione diretta nelle scuole. Questo fine settimana in molte scuole di Salerno superiori faremo attività mirate per vaccinare i ragazzi dai 12 ai 18 anni in modo tale che recuperiamo. Abbiamo già raggiunto il 33 per cento di questa classe d'età vaccinata che però rispetto ai più adulti ancora un po' più indietro abbiamo bisogno di fare un rinforzo. Questo rinforzo lo faremo anche recandoci direttamente presso le scuole. Ci aiuterà in questo senso anche l'arrivo di una nuova formulazione di vaccino Pfizer che dedicheremo appositamente a questa classe che è un vaccino già pre infialato per cui non avremo il problema della diluizione. Questo ci faciliterà il lavoro e ci accelererà la possibilità di intervenire in questo modo. Cosa diversa per i ragazzini da 5-11 anni. Qui ribadisco è importantissimo che continuino a iscriversi. Abbiamo ormai vaccinato più della metà più del 52 per cento degli iscritti in piattaforma che però sono ancora meno di quelli che possono farlo. Per cui invito le mamme, invito le famiglie a continuare a iscrivere i ragazzi in piattaforma. In questa fase non andremo presso le scuole perché per questa classe d'età il vaccino è un vaccino dedicato specifico. Preferiamo avere la presenza e il supporto anche di personale dedicato, di personale pediatrico. Continueremo a vaccinare nelle strutture che abbiamo già attivato presso i centri materno-infantini altre strutture similari. Dottore, quanto invece si stanno incrementando le richieste e le iscrizioni in piattaforma per la prima dose e anche in virtù delle nuove regole che scatteranno con il Green Pass da febbraio per l'ingresso in determinati luoghi uffici pubblici? Ma noi dobbiamo rivendicare il fatto che la provincia di Salerno siamo tra le province con maggiore percentuale di vaccinazione complessiva. Noi abbiamo ormai superato i 2 milioni e 200 mila circa dosi di vaccino inoculato. Siamo a 860 mila, 870 mila prime dosi, 770, 780 mila seconde dosi. Siamo a quasi 50 mila terze dosi. Diciamo che il grosso siamo superiore ormai al 66, 67 per cento della popolazione che deve fare la dose booster. Questo sicuramente in qualche modo è accelerato da questi obblighi ma è stato accelerato anche dall'andamento della pandemia, dalla sensibilità maggiormente cresciuta, dalla maggiore fiducia nei vaccini che man mano è andata crescendo. Sicuramente questo ci permetterà di gestire bene questa fase in cui iniziamo a vedere anche i segnali di una maggiore, di un rallentamento che in parte è dovuto anche alla buona copertura vaccinale che abbiamo assicurato. I vaccini e i contagi qual è la situazione in città Salerno, non solo per le scuole ma anche per tutta la fascia della popolazione? Noi dobbiamo anche in questo caso capire che con questa variante Omicron dobbiamo essere molto molto attenti perché i contagi sono facilissimi per cui se non rispettiamo le misure di precauzione corriamo il rischio di diventare contagiati, di avere la sintomatologia lieve per quanto lieve ma i numeri generali poi con il grande numero di persone contagiate possono darci anche brutte sorprese per cui in questi giorni noi ci troviamo non tanto a Salerno ma anche a livello nazionale con il numero di morti che è più alto di quelli delle fasi precedenti però con una moltiplicazione di contagio che è molto molto più alta questo si spiega. Attenzione, attenzione, continuare a tenere le mascherine, continuare a tenere il distanziamento, continuare a tenere le misure di precauzioni generali e dobbiamo resistere un altro pochino. Se riusciamo a chiudere la campagna vaccinale, a raggiungere un 90% diffuso in tutte le classi di età, continuiamo a tenere un pochino gli atteggiamenti di precauzione, probabilmente fra un mesetto potremo respirare molto bene. Grazie a tutti.